Rimpatri e accordi di riammissione sono punti fondamentali nel vertice che sottolinea la necessità di garantire rimpatri effettivi e la piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione avvalendosi della leva necessaria. Ecco di cosa si è parlato al Consiglio europeo di oggi in tema di migrazione. Secondo giorno di Consiglio europeo. Mentre ieri si è parlato principalmente della lotta alla pandemia di coronavirus, oggi i leader oi affrontano il tema dei flussi migratori, una delle questioni più complesse da discutere in 27. Rimpatri e accordi di riammissione sono punti fondamentali nel vertice che sottolinea la necessità di garantire rimpatri effettivi e la piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione avvalendosi della leva necessaria. Come, ad esempio, potrebbe essere una stretta sui visti ai paesi che non collaborano per le riammissioni. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare urgentemente proposte e a mobilitare finanziamenti per azioni su tutte le rotte migratorie in linea con le accresciute ambizioni dell'UE a riferire regolarmente al Consiglio a riguardo. In linea con la sua dichiarazione del marzo 2021 e le sue conclusioni del giugno 2021, il Consiglio europeo ribadisce la sua aspettativa che il finanziamento per i rifugiati siriani e le comunità di accoglienza in Turchia, Giordania, Libano e in altre parti della regione nell'ambito degli strumenti pertinenti sarà mobilitato in un modo tempestivo. Sempre riguardo ai paesi terzi, però, si legge anche nel dossier sul tavolo dei leader UE, il Consiglio europeo non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici. Condanna i recenti attacchi ibridi alle frontiere dell'UE e risponderà di conseguenza. Centrale nel dossier è il finanziamento, anche a paesi terzi, per azioni su tutte le rotte che garantiscano un controllo efficace delle frontiere esterne. Il Consiglio, nel documento discusso, afferma poi di attendersi che poi questi piani d'azione siano sostenuti da scadenze concrete e da un sostegno finanziario adeguato e ribadisce la richiesta alla Commissione di riferire al Consiglio sulle sue intenzioni.